Buona l'uccita di Lucio con i tempi giusti, poi di esterno per Forlán, ecco le tre punte dell'Inter che si innescano, a sinistra c'è Pazzini, Forlán ancora, Carrizzo in qualche modo, sempre Faraoni in verticale, arriva la copertura di Spogli non precisa, Milito dentro, Forlán, Carrizzo. Forlán, Carrizzo, ecco l'apertura per Gomez che è in posizione regolare secondo Guardalina, uno contro uno di Gomez, entra in linea, Gomez e il Popu, 1-0 e poi la replica al fratello. Ancora verticale il suggerimento con Nagatomoff, senza che c'è bene, Nagatomoff a movimento, balla sul sinistro. Almiron, accanto Isco, Almiron è un grande tiratore, cerca l'esterno, posizione regolare, si divore un gol Barrientos, si divore un gol Barrientos. Almiron. Marchese, guarda che adesso... Ancora dentro Barrientos, Marchese, posizione regolare, dentro, Mariano, Isco, 2-0. Qui vediamo. E no, poi è fuori gioco. Anzica a concedere il gol, ma è fuori gioco nettissimo. Anche se la tocca Nagatomo, non c'entra niente. No, dipende se Nagatomoff fa una giocata, se il pallone era indirizzato a un altro, poi Isco, tra l'altro, la mette dentro con il sinistro dopo aver lasciato di destra. La dobbiamo rivedere. Perché Marchese è sicuramente in fuori gioco, però la palla la tocca prima a Nagatomo, ma non penso che non conti nulla, se non è fuori gioco questo. Dipende se la sua è una giocata o meno, se il pallone andava in quella direzione o meno. Fa il movimento Samuel, secondo palo, Milito, fuori gioco. E comunque, Garriso è rispinto. Barrientos attaccato altissimo da Samuel. Lo aggira Barrientos, che sta mettendo in mostra un controllo. Di palla spettacolare, che palla per Gomez, poi Giulio Cesar con la gambetta. Eh sì, perché era proprio al limite, aveva paura di uscire con le mani, allora è andato con il piede. Perde palla ancora l'Inter. Barrientos cerca il pallonetto, alzi Bergessio. E il pallone termina altro sopra la traversa. L'occhio contropiede, partito velocissimo Barrientos. Eccolo servito, Barrientos in campo aperto. Giulio Cesar deve fare il libero. Poi sbaglia l'appoggio perché Nagatomo se n'era andato. Bergessio prova da centrocampo. Non è il piede per questa cosa. Prova arrivare di testa Motta. Palla sul fondo, ma Motta va vicinissimo al 3-0. Samuel Carlinson. Ancora Forlano. Uno contro uno di Forlano. E' il trenare di rigore. Forlano sul sinistro. Diego. Forlano. 2-1 su Papero di Caniso. Forlano per Milito. Posizione regolare. Diego. Milito. 2-2. Gomez per Almiron. Poi arriva Lodi. Non è il destro. Prova a metterla dentro. Seymour. La passa Giulio Cesar. Nagatomo. Arriva il cross. Lo mette fuori le grottaglie. Insiste ancora. Obi. Liscio. L'Obi. In area di rigore. Arriva il professore. Pazzini. Pazzini. Caniso. Ma che si è mangiato Pazzini? Era solo. Era solissimo Pazzini.